Nette ed inequivocabili le parole del Pontefice sugli abusi e danni di minori nel discorso al corpo diplomatico. Un crimine, spiega il Papa, che mina la credibilità della Chiesa. Non posso tacere una delle piaghe del nostro tempo che purtroppo ha visto protagonisti anche in diversi membri del clero. Gli abusi contro i minori costituiscono uno dei crimini più vili e nefasti possibili. Una piaga ancora aperta che proprio in questi giorni è tornata d'attualità con l'apertura del processo nei confronti del cardinale Barbarin, arcivescovo di Lione e altre sei persone per mancata denuncia di abusi sessuali commessi su minori. Lui e il suo entourage avrebbero coperto padre Prena Reo Confesso di violenze su oltre 70 minori.